Prepariamo un secondo di carne per due persone, fettine di manzo alla pizzaiola, un piatto semplice, molto facile da preparare. Vediamo gli ingredienti, ci servono delle fettine di manzo, del sale, dell'origano, dell'olio extravergine d'oliva, del pepe, della cipolla tritata, polpa di pomodoro e doppio concentrato di pomodoro. Olio extravergine d'oliva, diciamo circa due cucchiai, quindi un cucchiaio a testa. Io faccio vedere la ricetta per due persone, poi questa è talmente bella e gustosa che la potremo fare anche in occasioni in cui abbiamo ospiti, amici. Metto la cipolla, un cucchiaio di cipolla è sufficiente, è una salsa a base di pomodoro, molto importante la scelta quindi di una polpa di pomodoro, sarà una salsa che con la carne si abbina benissimo perché è corposa, è sapida, dà veramente una marcia in più, cosa che arricchisco ancora di più usando il doppio concentrato di pomodoro. Un cucchiaio o due di concentrato di pomodoro per dare ancora più ampiezza di sapore, per avvolgere ancora di più con il gusto. Cuociamo la cipolla senza farla imbiondire, poi continuerà a cuocere nella polpa di pomodoro che è molto fresca, ricorda il prodotto all'origine. Aggiungo un paio di cucchiaiate di doppio concentrato di pomodoro. Incorporiamo bene il tutto, quindi andiamo a stemperare la polpa che con il doppio concentrato di pomodoro. L'origano aspetto a metterlo, è una parte importante della pizzaiola, è l'ingrediente da cui prende il nome questa ricetta. La salsa in questo momento è quasi pronta, manca un pizzico di sale, un po' di pepe. Comincio a sfogliare un po' l'origano che aggiungerò tra breve. Le foglioline sono molto aromatiche. Aggiungo alla salsa l'origano. Quindi la carne, così com'è, si tuffa in questo sugo gustoso ed è qui che fa tutta la sua cottura, dall'inizio alla fine. Il sugo nel frattempo cuoce, si insaporisce sia della carne che degli aromi come appunto l'origano. E viene una salsa veramente gustosa. Il sugo bolle, quindi avvolge la carne di calore, ma soprattutto di sapore. Il concentrato di pomodoro cosa fa in questo momento? aiuta la polpa a dare una struttura di gusto più ricca, più avvolgente. È un piatto semplice e va sempre bene. Lasciamo ancora cuocere qualche minuto, dopodiché lo impiattiamo. L'impiattamento del manzala pizzaiola. A me emoziona sempre. È un piatto semplice, ma molto, molto, molto bello. Bellissimo questo colore del pomodoro. Già la polpa di suo ha questa caratteristica. Poi qui abbiamo messo il doppio concentrato e è diventato un sugo bello saporito. Qualche fiorellino di origano qua e là. E il piatto è così, solo da mangiare. Buonissimo. Grazie.